Ora parliamo di volley femminile, sempre più lontano da Cremona, il futuro della VBC. Se ne è parlato ieri sera a Sottorete. Ecco nel dettaglio la situazione del Club Rosa, sempre alle prese con il reperimento di un main sponsor. Abbiamo cercato di fare un po' il borsino di quelle che sono le città che potranno accogliere la VBC e più Casal Maggiore nel prossimo campionato di Serie 1. Almeno per ora le indicazioni sono queste, il borsino rosa è questo e è un grande ribaltone rispetto a quanto ci eravamo detti un mese e mezzo fa. La priorità resta Cremona, ma Cremona adesso è scesa di parecchio nelle percentuali perché Casal Maggiore ha meno di cose clamorose nelle ultime ore. Non è riuscita a trovare, bussando a tante porte, a tanti imprenditori cremonesi, lo sponsor, il main sponsor e il sostegno economico che cercava a Cremona. E quindi cosa succede? Succede che Viadana torna in auge, c'è un 50%, ma attenzione perché anche Parma come percentuale l'abbiamo messa al 40% ma rischia davvero di aumentare. C'è già un contatto, è inutile negarlo, Casal Maggiore si è informata anche attraverso il vice sindaco di Parma che ha la delega allo sport. A Parma vogliono rilanciare un po' il palaraschi, non hanno una platea importante come quella che può garantire una Serie A1 e dunque Casal Maggiore potrebbe davvero orientare le prossime giornate di contatti con eventuali sponsor dal territorio cremonese a quello più indirizzato verso Casal Maggiore Viadana e chissà anche Parma. A conferma di quanto detto ieri sera a Sottorete, la VBC ha diffuso oggi una nota. Non avendo ottenuto in queste settimane risposte positive su Cremona, scrive la dirigenza Rosa, la VBC ha deciso di prendere in seria considerazione la soluzione di poter trasferire ad altra città la sede di gioco qualora il main sponsor lo ritenga opportuno. A questo punto le ipotesi Viadana o Parma si fanno dunque sempre più concrete.